Signora Ausilia Pirozzoli, siamo pronti per aprire definitivamente questo bel mulino? Magari, l'unica cosa che riesco a dire subito. Certo, il nostro desiderio è proprio questo, di farlo vivere sempre ancora di più, perché questo mulino di mio padre, e l'ho avuto in eredità mio fratello Nicola, è stato in funzione fino al 1981. Poi, è solo così, apriamo quando c'è qualche visita, ci sono delle visite, alle scolaresche soprattutto, e a noi fa piacere, ci farebbe tanto piacere, il desiderio di esaurire, il desiderio di tutti noi, ma soprattutto di mio fratello, di poterlo dare a istituzioni, anche al comune, per poterlo tenere un po' di manutenzione, ci sarebbe un po' di manutenzione di più, e farlo visitare, che sarebbe anche una bella fonte di ricchezza. È l'unico mulino nell'Italia meridionale ad avere queste caratteristiche, cioè con le macine in pietra, e sono due mulini in uno, cilindri e palmenti. Ma volendo si può mettere nuovamente in funzione? Con un po' di manutenzione sì, perché è stato chiuso e non è mai stato tolto nulla. Come ha tolto l'elettricità, ha chiuso papà nel 1981 appunto. Non è chiaro, adesso i macchinari saranno un po' da rivedere, ma con un po' di manutenzione non ci vuole molto. In altri posti lo hanno fatto. Perché non farlo anche da noi? Allora, Sindaco, c'è la possibilità di accettare l'appello della signora Ausilia? Ma sì, anche perché il valore aggiunto che abbiamo qui a Faeto è un'unicità. La famiglia Pirozzoli nel secolo scorso è una delle poche che aveva conservato nel tempo queste preziose testimonianze. Quindi ne stiamo parlando con l'intera amministrazione, con tutto il Consiglio Comunale. E a breve ci sarà un Consiglio Comunale dedicato a questa adesione alla volontà della famiglia Pirozzoli. È una grossa risorsa e non possiamo permetterci di lasciarla così nel tempo. va custodita con un progetto completo, con un progetto che sia veramente adeguato al valore di ciò che è qui. Un progetto che vada a sistemare sia l'immobile e vada a costituire un museo vero e proprio della civiltà contadina.